ci riporta immediatamente appunto in un tempo, in un luogo e in un momento della nostra memoria. Abbiamo deciso di dedicare questa via a Demetrio Stratos per molti motivi, ma ci tengo a sottolineare i più importanti, almeno dal nostro punto di vista. Innanzitutto il fatto che siamo in una via molto importante, siamo in un luogo di trasformazione, di cambiamento della città, dove il segno dell'architettura contemporanea è molto forte e molto evidente e al tempo stesso anche proprio di trasformazione del paesaggio urbano della città, estremamente proiettato verso il futuro. E noi pensiamo che questo spazio così importante fosse il luogo più giusto per rendere omaggio a una figura che ci ha sempre invitato a guardare con gli occhi verso il futuro. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.